salve a tutti e bentornati a contro lo sport più ostinato il podcast ufficiale di unfair play che ne approfitta per svelarvi che in settimana era stato chiuso uno scambio fra me e uno dei membri degli autogol ma per via di ulteriori visite mediche richieste è saltato tutto quanto io sono daniele e come ci sono come sempre luca e antonino bentornato luca ciao dan e un saluto a tutti gli ascoltatori soprattutto a quelli che sanno stare un passo indietro a quelle che sanno stare un passo indietro non volevo dirlo ma chi ha orecchie per intendere e bentornato anche antonino ciao dan ciao luca buonasera a tutti soprattutto a quelli che mi rubano la gag del del dei saluti iniziali chi dei due l'ha fatto scusami io luca 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 tu stai un passo indietro volevo parlare delle fidanzate degli interisti delle fidanzate interiste degli juventini ma va bene non è un caso che voi abbiate pensato la stessa apertura e che io sia l'unico single dei tre però comunque non sono affari miei e ve la vedrete voi con le rispettive persone che stanno un passo indietro diremo che ce l'hai suggerita tu certo ovviamente vi sarebbe piaciuto avere uno dei membri dell'autogol al posto mio a fare il podcast della verità che faccio la solita introduzione ma con l'imitazione di antonio conte con la voce di federico buffa tutte queste cose simpatichine in realtà ci sarebbe bastato chiunque altro al posto tu non c'era proprio bisogno di andare a prendere uno degli autogol quello probabilmente dovremmo pure pagarlo sì probabilmente sì vabbè comunque non ci pensiamo che tanto prima o poi ce lo ritroveremo il nostro grande ospite gli chiederemo di fare un'intervista tutta quanta imitando ogni frase un uno diverso esatto prima di parlare di quello che è successo in questa settimana è successo veramente un sacco di roba passiamo consuetamente ai nostri auguri ringraziando come al solito chiunque ci sostenga sulla pagina patria un patria.com slash unfair play continuate a farlo sempre di più non vi fate problemi e non è una che ci offendiamo anche perché dobbiamo continuare a dirvelo perché ci teniamo che questo podcast vada avanti per quanto riguarda invece gli auguri che facciamo come ogni settimana questa è la puntata del 21 gennaio e come compleanni possiamo fare gli auguri a marco asenzio a phil neville c'è anche roberto guana uno dei 16 mila giocatori pelati che nel nuovo millennio ha invaso la nostra storia c'è stato un periodo in cui fra lui migliaccio rosina c'era veramente un sembravano persone che facevano parte di una sola matriosca pelata e invece c'era c'era quando c'erano al palermo lui migliaccio e bresciano commentatori volevano suicidarsi a ogni partita del palermo poi facciamo gli auguri anche ad allen boxic ovviamente wes morgan che era uno dei giocatori dell'eister allenato da ranieri ranieri che invece diciamo si guarda ogni sera le cassette di quell'annata perché ormai non è che abbia molta molto e lo chiamano ogni volta in serie a per rimettere a posto le situazioni di merda lui perché è il nonno buono di tutti noi non riesce mai a dire di no ma ci teniamo a fare gli auguri a miktarian il cacciatore della roma un infortunio vivente che però a quanto pare sta recuperando potrebbe anche giocare in coppa italia con la con la juventus o comunque tornare per il derby di questo weekend che ha giocato nello shaktar donesk nel manchester united e nell'arsenal e che l'anno scorso passò diciamo entrò in molte molte notizie perché perché si è sposato e al suo matrimonio sbucò dal nulla albano a cantare per lui e la e la e la sua novella novella sposa che meraviglia che meraviglia davvero perché era il 18 giugno e la gazzetta dello sport si è subito fiondata per intervistare albano e albano ha avuto queste bellissime dichiarazioni per miktarian gli hanno detto sai che adesso miktarian giocherà in serie a e lui ha risposto ma davvero non ne sapevo molto ma d'altronde a giugno non sapevo neanche chi fosse miktarian quindi questo ci fa capire benissimo che albano è un grande conoscitore di calcio la cosa bella è che ci sono 6 o 7 domande in questa in questa intervista e l'ultima domanda è vuole fare un in bocca al lupo miktarian e albano risponde certo ma dove mi hai detto che va a giocare quindi per capire proprio il livello di stima che c'è nei confronti dell'armeno io volevo fare gli auguri sempre per rimanere in tema di pelati e anche a nikki bat perché assieme a phil neville fa fa il compleanno anche nikki bat fa dimostrazione di quanta coesione ci fosse in quello spogliatoio e poi volevo fare gli auguri a nicolas mahout che è il il tennista che ha perso la più lunga partita della storia del tennis a ricordo in 2010 e a proposito di quella partita lui ovviamente è conosciuto praticamente solo per quella partita tant'è che lui si è ha detto che è stata una maledizione per vari motivi tra cui non può più non può più andare ai ristoranti che a cenare perché tutti i camerieri a quanto pare gli dicono abbiamo solo un tavolo spero che non rimanga qui tutta la notte poverino lui fa finta di ridere fa finta che sia la prima volta che sente la battuta si dice che sta diventando un dramma questa questa frase perché gliela dicono tutti continuamente da dieci anni ma lui era quello altissimo quello a statura normale lui era quello a statura normale ok l'altro era quello il perticone ok quello che è molto bello che la partita è iniziata il 22 giugno e finita il 24 giugno due giorni dopo questo 11 ore e cinque minuti di gioco cioè non riesco neanche a pensarci praticamente la cosa bellissima è che quella partita ha vinto vari record tra cui la partita con più ace della storia del tennis e beh nadal che ha vinto quel torneo ha fatto 65 ace in tutto il torneo ma ut che non era neanche un grande servitore in quella partita ne ha fatti 105 e anche anche isner sopra i 100 se non sbaglio isner 113 ecco di più ancora la legge dei grandi numeri sì perché perché isner si si isner è quello che serve forte ma ut è quello che serve normalmente certo si è stata quindi a fare gli auguri quindi auguri anche a nicolà ma ut auguri ma ut io volevo dire una cosa su assenzio che appunto con per l'anni è ormai è detto assenso 4 a 1 è finita perché se viene nominato sotto ogni post di tifosi della juventus sì non so se vi ricordate ma si dice che dopo la finale di champions del 2017 lui abbia passato la notte con la cantante inglese che aveva cantato all'inizio prima della partita dualipa e lei però ha smentito dicendo il mio manager non me l'avrebbe mai permesso perché tifa liverpool quindi se non avessi tifato lì io immagino il giorno dopo tutti i giocatori del liverpool a dire ma non è che tranne probabilmente tranne carius perché a quel punto il manager avrebbe detto no meglio asenzio perché dopo quello che aveva fatto carius in quella partita senza contare che se non ricordo male carius diciamo in quel in quella parte della sua vita è messo relativamente bene vabbè penso proprio di sì tutta gente che non guarda il calcio però tutto il ragazzo non guarda il calcio però evidentemente evidentemente sì volevo fare al gioco sì è vero è vero anche perché poi anche dopo è andato avanti piuttosto male con la carriera volevo fare gli auguri anche a beppe savoldi storico attaccante atalanta bologna napoli ho trovato una cosa interessante che durante la sua permanenza a napoli si cimentò nella nelle veste di cantante incidendo un singolo intitolato la favola dei calciatori che si 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 che 70 mila copie vendute comunque ma come si 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 che mi son chiesto ma è napoli che ti spinge a cantare proprio la città di napoli che io ovviamente non potevo limitarmi alla notizia ho cercato la canzone ho trovato la canzone e vorrei recitarvene una parte se se mi concedete due minuti praticamente la canzone è un padre che parla col figlio il figlio non vuole dormire gli chiede di raccontargli una favola e il padre gli dice che non sa non conosce favole ma ne inventa una sul calcio e la canzone dice questo albertosi era amico di zoff antonioni rivera incontrò già la rima zoff incontrò è qualcosa di meraviglioso e tutti insieme poi si misero a giocare con una palla di giornale e poi bettega arriva portò boninsegna con rossi arrivò e in quel cortile senza prato noi facemmo un campionato e chi vinse ebbe una coppa di gelato è qualcosa di strepitoso poi va avanti e poi facemmo un giro tondo che abbracciava tutto il mondo lo scudetto dell'amore si giocò cioè davanti alla poesia io veramente mi tiro il capo e mi prostro che capolavoro la metteremo subito nei nei commenti con la nostra con la nostra puntata perché tutti quanti non è che possiamo sentirla soltanto noi se se youtube se volete cercare la favola dei calciatori se tra l'altro proviamo a metterci in contatto se potesse diventare la nuova sigla del nostro podcast noi saremmo felicissimi quindi cercheremo di metterci in contatto con l'entourage di Beppe Savoldi il cantante non il calciatore perché immagino che abbia due entourage diversi penso proprio di sì bene parliamo di quello che senza dimenticare ovviamente quanto appena appreso parliamo di quello che è successo in settimana perché c'è stato il weekend di campionato ci sono stati anche delle giornate di Coppa Italia non molte sorprese se escludiamo ovviamente la Fiorentina che ha battuto l'Atalanta perché la Roma ha vinto la Lazio ha stravinto l'Inter ha stravinto la Juventus ha stravinto senza Cristiano Ronaldo che è mancato per un problema di Sinusite non è stato non è andato neanche in panchina in una partita in cui sono entrati Cani e Porci è entrato persino piazza e nel secondo tempo si sentiva Emre Can che della panchina urlava Ricola però niente proprio Sarri non lo voleva mettere non l'ha messo neanche contro il Cagliari però sì sono passate tutte quante le favorite tranne l'Atalanta e adesso ci sarà la possibilità di vedere questa settimana e la settimana prossima i quarti finale il campionato invece è la giornata di campionato è iniziata il sabato con la partita fra la Lazio e la Sampdoria credo fosse sempre alle 15 in cui la Lazio ha letteralmente sculacciato la Sampdoria e vorrei sottolineare non soltanto il cambiamento della Lazio ma la prestazione di Chabot che io non conoscevo benissimo che è questa specie di Volkswagen con le gambe che ha messo in difesa la Sampdoria una prestazione orribile terminata poi con un'espulsione più per autodifesa che per altro perché non ce la faceva stare in campo un altro quarto d'ora una roba oscena lui e Collei hanno messo in scena una delle prestazioni più indegne difensive degli ultimi anni personalmente almeno quanto vi ricordi sì sì ma poi cioè lui è anche prestante fisicamente ma perdeva anche i contatti fisici con Immobile lo si vedeva volare ogni volta che si scontrava con Immobile ma pure con Luis Alberto sì sì è una cosa incredibile qualche spallata anche da Luis Alberto no comunque la Lazio è veramente in un periodo strepitoso è così in forma che Lottito sta già cercando scuse per non pagare i premi scudetto immobile in questo momento segna qualsiasi cosa gli passi davanti è primo nella scarpa d'oro ha già fatto 23 gol in 19 partite una roba incredibile anche se ha tirato parecchi rigori però i rigori devono essere segnati perché non è sempre così facile a tal proposito non so se avete sentito una notizia che è uscita oggi della probabilmente Serie C turca non so se siete esperti di Serie C turca durante una partita è stato fischiato un rigore per gli ospiti al 98esimo l'attaccante ha tirato il rigore il portiere l'ha parato però si è mosso prima e quindi il rigore è stato fatto ricalciare il portiere è stato ammonito secondo tentativo il portiere para di nuovo ma si muove prima quindi seconda ammonizione al portiere portiere espulso finiti i cambi va in porta un difensore terzo tentativo il difensore para il rigore è riuscito a sbagliare tre volte lo stesso rigore che fa impallidire Martin Palermo infatti stavo dicendo adesso è pronto per la convocazione con la nazionale argentina un uomo che riuscì a sbagliare tre rigori in una partita ma che riuscì anche a segnare di testa da centrocampo veramente un uomo di una versatilità impressionante un uomo che fece rimanere a casa tipo Tevez da un mondiale diciamo che i ct dell'argentina nell'ultimo decennio o quindicennio anche non è che abbiano mai brillato per grandissime scelte eppure quello era Maradona eh aveva uno luce ma che lui si concentra soprattutto sulle coreografie in caso di vittoria sui balletti e cose così quindi per il resto insomma un po' così il sabato è andato avanti con il Sassuolo Torino il Sassuolo ha vinto in rimonta due squadre su cui cambio idea una volta al giorno ormai perché non capisco quale è in crisi quale no Boga che ogni tanto sembra sembra la reincarnazione di Messi quando è in buona giornata Berardi che segna dopo gli infortuni è già una grande notizia Mazzari a cui rodo il culo quindi insomma tutto quanto nella norma è un primo gol bellissimo in cui sembrava una partita di snooker di doppia sponda dei giocatori del Torino con l'autogol credo di Locatelli sì di Locatelli comunque è strano Mazzari rodo il culo però è strano che non si sia fatto esplodere in conferenza stampa perché la partita è stata decisa da Berardi che doveva essere squalificato ma è stato vinto il ricorso dal Sassuolo e quindi ha giocato io mi aspettavo fuoco e fiamme invece non mi pare che abbia fatto niente di particolare si starà stancando anche lui probabilmente perché non c'era Marocchi può darsi e il sabato è finito con l'ennesimo capitolo dello psicodramma del Napoli perché c'è stata Napoli-Fiorentina la Fiorentina adesso sotto la reggenza Iachini ha vinto 2-0 il Napoli veramente malissimo in un San Paolo zeppo di malinconia a un certo punto anche i seggiolini nuovi pitturati blu si sono staccati da sole se ne sono andati perché è stata veramente una roba deprimente e dopo la partita c'è stata questa splendida decisione della squadra secondo quanto ha detto Gattuso di andare in ritiro un ritiro che poi è stato cancellato circa 15 ore dopo è durato soltanto una notte molto probabilmente questo ritiro è stato deciso perché Gattuso non voleva qualunque cosa la moglie avesse preparato per cena quel sabato e quindi ha deciso ce ne stiamo fuori questa nottata andiamoci nel ritiro sì ormai il Napoli ogni sconfitta c'è qualcosa sul ritiro se lo decide uno lo decide l'altro qualcosa viene fuori sempre però volevo chiedermi una cosa secondo voi parlando della Fiorentina come l'avrà presa Montella tutto questo perché sette punti in tre partite se non sbaglio secondo voi un allenatore quando succede questo pensa dovrei cambiare mestiere oppure pensa vedi che i frutti del mio lavoro adesso si vedono e se mi avessero lasciato lavorare sarei andato sarei andato bene anch'io guarda devo dirti la verità considerando il modo in cui Montella parlava dopo ogni sconfitta faceva sempre queste stranissime interviste post partita in cui chiedeva ancora tempo quando probabilmente la Fiorentina in classifica stava andando in un saldo negativo cioè invece di avere zero punti andava a meno tre meno quattro quindi non mi stupirebbe che sapere che Montella in questo momento è in giro per il mondo magari è tornato a Siviglia a vantarsi che dicendo Castrovilli l'ho inventato io come Pippo Baudo e vantarsi di questo anche perché abbiamo visto un Castrovilli clamoroso io mi piacciono questi colpi di fulmine che ho ogni tanto per i calciatori e ha fatto veramente delle cose sorprendenti e presumo che andrà in nazionale al posto di Zaniolo o lui o Orsolini dipende se Mancini voglia un esterno o un centrocampista ma presumo che questi due siano i i grandi i grandi candidati e il merito probabilmente andrà a Iachini perché Montella verrà cancellato dalla memoria da Amnazio Memorie non soltanto dalla Fiorentina se lo merita proprio per la Serie A in generale ma come la vedete Castrovilli e Orsolini al posto di Zaniolo e Bernardeschi guarda qualsiasi cosa al posto di Bernardeschi anche se prendo un Ficus Benjamin per me va benissimo in questo momento anche Zaniolo infortunato è meglio di Bernardeschi considerando che ogni tanto quando mancava l'attaccante i nostri esterni della nazionale erano Bernardeschi Chiesa e Insigne e tralasciando l'ultimo gol di Chiesa al San Paolo non è che questi tre stiano avendo proprio una grandissima stagione quindi per me qualsiasi cosa ci metti al posto di uno dei tre va benissimo ma che Bernardeschi poteva fare anche il falso 9 è stato provato anche così può anche fare il falso 33 tra l'altro ho visto anche che Bernardeschi è velocissimo a esultare in caso di gol della Juve il primo di tutti a esultare quindi comunque fa spogliatoio comunque qualche lato positivo può fare il capultra credo sia perché sa suonare la chitarra quindi deve essere una di quelle cose che magari è il falo della Juventus lui è l'anima della festa poi passiamo alla domenica che è iniziata con un Milan udinese sorprendentemente scoppiettante una partita bellissima e io devo essermi perso l'annuncio ufficiale del momento in cui l'udinese è diventato una squadra che gioca bene io ero rimasto a Tudor eliminato e Gotti che era lì perché era stato messo in trappola da qualcuno invece l'udinese ha giocato bene Donnarumma prima ha cercato di uccidere Lasagna e poi ha fatto miracoli su miracoli però poi il Milan grazie a Rebic che è entrato nel ruolo di butto dentro chiunque a parte Suso che gli ha cucito addosso Violi doppietta di Rebic e Mila vince e al solito Teo Hernandez continua a dare spettacolo ha fatto un gol bellissimo e prima ancora di vedere spezzata la maledizione del numero 9 al Milan è spezzata quella del numero 19 che era di Bonucci qualche tempo fa anche quella era dura eh sì decisamente sì comunque secondo me non è l'udinese che è diventata una squadra di calcio ma è tutto merito sempre di Ibrahimovic che quando gioca fa giocare meglio tutti cioè anche anche gli avversari sì 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 a tal proposito ho trovato una notizia che c'è una gelateria di Milano che ha inventato il gusto Ibrahimo Weiss quindi un gelato al gusto no gelato al gusto Ibrahimovic che sarebbe una crema con l'aggiunta di un rotolo svedese alla cannella che è un dolce tipico svedese e per diciamo l'altra parte un distillato dei Balcani quindi un super alcolico a 65 gradi la madonna sì 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 quindi non so come sia a me non ispira molto se posso dire la verità però c'è c'è questa notizia particolare beh se è così alcolico probabilmente dopo che lo assaggi comincia a parlare italiano come lo parla Ibrahimo Weiss sì e comincia a dire cazzo guardi a tutti quelli che ti trovi intorno e poi alle 15 un bel po' di partite c'è stato Verona-Bologna e c'è quel gol di Borini che è già no Bologna-Verona scusatemi quel gol di Borini Bologna-Verona sì già da da segnalare Borini che tra l'altro all'ultimo minuto ha fatto un'azione personale saltando tre persone provando un tiro di sinistro a giro sotto l'incrocio che è andato alto di poco questo vuol dire che veramente non è tanto essere scarsi ma magari staccandoti dal Milan hai una specie di sussulto come quelli che vengono colpiti dal defibrillatore che si è allenato che si è allenato qualche giorno con Ibraimovic capisci e quindi anche lì l'ha migliorato poi c'è stato Brescia-Cagliari due doppiette di Torregrossa e Giovedro che rendono questa una partita che probabilmente entrerà nel suo piccolo nella storia ma a riportarla alla normalità c'è stata l'espulsione di Balotelli non so se l'avete vista in pratica contrasto tra Balotelli e Pisecani l'arbitro lo ammonisce Balotelli guarda negli occhi l'arbitro lo manda a fanculo due volte l'arbitro gli mostra il rosso Balotelli finge di essere stupito e mentre i suoi compagni protestano con l'arbitro Balotelli si avvicina e gli dice ma non ti ho mandato a fanculo ma sei matto l'arbitro sente che gli viene dato il matto si gira e Torregrossa prende Balotelli e lo spinge via perché ha capito che andando avanti così probabilmente l'avrebbero rivisto nel 2024 si e tra l'altro Balotelli sui social si è lamentato perché dice che la gente su di lui cambia troppo velocemente parere perché adesso dopo l'espulsione tutti dicono che è una melamarcia cosa del genere però in realtà lui deve ringraziare questo perché solo grazie a questo fatto che al prossimo gol la gente lo chiederà di nuovo in nazionale quindi mi sembra non lo so questa lamentela mi sembra tipo un porno divo che si lamenta del fatto che in giro è pieno di rotomani manieci sessuali cioè non ci mangeresti senza ecco no probabilmente no la cosa bella è che Balotelli ha provato a difendersi brevemente insultando l'arbitro Balotelli mi dà l'impressione di uno che se va al supermercato e ruba tipo del galbanino e lo mandano a processo e si difende da solo becca l'ergastolo perché non riesce a stare zitto poi ovviamente la sorpresa del pomeriggio è stato il pareggio fra Lecce e Inter perché insomma in atteso l'Inter è un po' stanca perché capisco che la gente si diverta a dare del lamentoso a Conte ma ovviamente se giocano sempre gli stessi un po' c'è stanchezza e Conte tra l'altro ha giocato in un clima non proprio rilassatissimo perché Conte a Lecce è particolarmente odiato sia per i suoi trascorsi a Bari che per un'esultanza ai tempi di quando giocava con la maglia della Juventus contro il Lecce ed è probabilmente per questo che ha fatto tutto per non esultare in questa partita qua fortunatamente per lui non è andata bene senza contare che ci sono stati degli striscioni abbastanza diretti di insulti a Conte e alcuni un po' più subito lì c'era uno striscione in cui hanno scritto che Conte è il fratello di Gasperini questa era un po' più però l'ha presa come un insulto anche questo e beh comunque il nervosismo di Conte secondo me anche perché lui ovviamente chiede dei rinforzi la coperta per l'Inter è corta soprattutto a centrocampo e si è trovato contro il sosia di Modric cioè Petriccione quindi anche per quello secondo me c'era un po' di nervosismo questa cosa di Modric sosia di Petriccione anzi non viceversa ovviamente è Modric certo tu me l'hai fatta notare durante la partita e io mi chiedevo quanti lo sapessero ho scritto su Google la parola Petriccione la prima ricerca correlata non è Lecce non è Cacciatore ma è Modric quindi è una cosa particolarmente risaputa di cui io non avevo cognizione quindi grazie per avermi almeno io meno male che adesso lo so e quindi posso finalmente diciamo a mettermi più vicino alla massa perché questa notizia non la sapevo la domenica si è chiusa con prima la Roma che ha vinto contro il Genoa Genoa ormai in stato catatonico la partita è stata sempre in pugno della Roma Spinazzola tra l'altro ha giocato titolare ha giocato bene ha propiziato un gol con il Genoa che praticamente li ha regalati tutti e tre perché è un tiro cross non preso un autorete e un regalo di Perin al punto che se l'Inter vorrà chiedere giocatori al Genoa invece di chiedere supplementi di visite mediche deve chiedere proprio l'autopsia per questi giocatori perché sono ridotti veramente male in questo momento sarebbe interessante vedere Genoa a Napoli chissà quando due squadre depresse in una maniera mai vista e che regalano gol in un modo incredibile sono anche gemellate ma mi sa che si stanno particolarmente sul cazzo da un po' credo sia stato sciolto mi pare questo gemellaggio è vero è ragione comunque a proposito del mancato scambio politano Spinazzola secondo me all'Inter hanno fatto le visite mediche a Spinazzola ma è risultato che sta troppo bene per essere un esterno dell'Inter visto le prestazioni anche di Candreva e di Biraghi di Domenica diciamo che probabilmente è così è lo stato di salute di Asamoah che comunque esatto che è veramente desaparecido in realtà sta bene anche per essere un esterno della Roma sì quello è vero nel senso respira quindi deambula cammina e poi la giornata si è chiusa definitivamente la domenica ovviamente noi stiamo registrando prima del posticipo con la Juventus che ha vinto contro il Parma una partita veramente bruttissima forse la peggiore della stagione della Juventus proprio come gioco totale ho visto veramente poche cose incoraggianti i ritmi bassissimi c'era Rabiot che guardava la partita e si chiedeva ma è davvero così che mi vedono ogni volta quando gioco quindi si è intristito però come sempre anche nelle partite brutte arrivano i gol dei fenomeni assoluti e poi c'è stata anche la doppietta di Cristiano Ronaldo quindi sono soddisfatto perché non soltanto il gol di Ronaldo ma è arrivata anche la rete del mio idolo Cornelius e la Juventus quindi è riuscita ad allungare in classifica sull'Inter a più 4 e adesso cominciano tutti perché finito il giro di andata cominciano tutti quanti i conti fra tabelle la Juventus ha gli scontri diretti in casa però c'è Lazio-Inter insomma tutte queste cagate e poi se la Lazio dovesse vincere il recupero sarebbe a meno 3 no mi sembra quindi comunque alla fine sono in 3 che se la giocano la Juve ha giocato veramente male tutti i giocatori della Juve compreso quelli che ci giocheranno l'anno prossimo perché anche Kulusevski ha fatto una partita molto al di sotto dei suoi standard di quest'anno Ronaldo ha fatto un'altra doppietta però secondo me sotto sotto rosica per il fatto che al pallone d'oro mancano 11 mesi se li avesse fatti diciamo un mese prima o tra una decina di mesi forse sarebbe stato più contento ha sbagliato il tempo va bene ci fermiamo qui per quanto successo in questa settimana dalla prossima in poi mi sa che cominceremo a parlare di impegni infrasettimanali come se piovesse perché due settimane di Coppa Italia poi praticamente inizierà la Champions League e ho appena realizzato mi ha colpito come un fulmine che il Napoli è agli ottavi di Champions League contro il Barcellona ho appena realizzato questa cosa che mi colpisce non sono sicuro che l'abbiano realizzata loro ma in qualche modo lo capiranno a spintoni per quanto riguarda invece questa settimana l'Holo Fame abbiamo la prima induzione del 2020 nella Onostarca della Gloria e non poteva non vincere Antonio che si schianta con la sua macchina vestito da pupazzo di neve sono molto fiero eritatissimo sì 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 sono molto fiero di questa prima nomination che apre ufficialmente è un po' lo stramaccioni del nuovo anno e quindi apre questa edizione cominciamo con le nomination per la settimana prossima Luca allora io questa settimana sono andato a verificare nelle diciamo nelle serie minori inglesi la vicenda di un difensore del Oxford City che si chiama Fintap e l'Oxford City è nella sesta serie inglese sostanzialmente questo giocatore è un po' scomparso dai radar della società e è stato ritrovato come guardando la tv è apparso in Sudafrica come concorrente di un reality show inglese che si chiama Love Island ma come? sì un reality show inglese che appunto viene girato in Sudafrica però la società l'ha presa abbastanza bene ha detto che loro non sapevano niente però hanno scoperto che non farlo sapere a nessuno faceva parte proprio del protocollo per i partecipanti e hanno capito la situazione e hanno augurato ogni fortuna al loro giocatore che ipotizzo essere abbastanza una pippa perché secondo me se fosse stato un giocatore fondamentale diciamo che non l'avrebbero presa così bene probabilmente neanche lui sarebbe andato al reality in effetti in effetti no anche perché lui è del 99 cioè è anche molto giovane ha giocato anche in serie professionistiche diciamo inglesi si vede che era già nella sua parabola discendente a 20 anni esatto e quindi ha deciso di provare questa nuova strada bene a posto Anto allora la mia candidatura è sul Telegraph il giornale che ha dato uno scoop sul tentato omicidio di Darko Kovacevic si secondo loro il mandante sarebbe stato Raul Bravo come Raul Bravo ma come Raul ex compagno e anche ex Real Madrid si che a quanto pare per una vicenda di calcio scommesse di quando hanno giocato insieme all'Olimpiakos a quanto pare secondo il Telegraph è stato lui lui ha commentato una invenzione del genere non ci potrebbe essere neanche su Netflix anche Kovacevic ha detto non ci sono non ci sono problemi tra me e Raul Bravo l'unica cosa che mi ha fatto arrabbiare è che per spiegarsi e per dirmi che non era stato lui ci ha messo due giorni ha detto così e niente quindi però il Telegraph insiste su questa versione si è anche vero che Raul Bravo cioè per fermare attaccanti altri modi non ne ha che aveva qualcosa con Kovacevic può essere che sia lui veramente il mandante è una cosa abbastanza random non avrei mai immaginato chi è secondo voi fra 20 anni che scopriremo essere tipo Toloi che prova a considerare Ilicic può darsi può darsi danni invece la tua candidatura dopo la vittoria di settimana scorsa e allora punto alla doppietta perché esco dal calcio e mi butto su uno sport che personalmente non seguo tantissimo ma che merita un po' di attenzione cioè lo snooker io non sono bravissimo nel biliardo quindi non seguo come detto però qualche cosa ha tirato la mia attenzione e che cosa è stata la finale del London Master che è un torneo abbastanza importante era fra Carter e Bingham soltanto che poco dopo l'inizio di questa di questa partita molto importante sapete com'è l'aria insomma all'interno di un palazzetto quando c'è questo questo tipo di partite c'è molto silenzio molta reverenza poi ovviamente a Londra molto British soltanto che mentre Stuart Bingham stava provando uno dei suoi primi tiri si è sentito una rumorosissima scorreggia no sì ma il problema è che sai se lo fai a San Siro in mezzo a 60.000 persone non è un grande problema Bingham si è rialzato e ha fatto capire giuro di non essere stato io anche perché gli inglesi ci tengono subito specialmente quelli con il gilet non ci vengono a far capire che non lo non le sanno fare ha dato la colpa a Raul Bravo non ha dato la colpa a Raul Bravo anche perché Bingham è abbastanza abbastanza cicciottino quindi secondo me la gente avrebbe subito è stato il primo sospettato sì 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 il problema è che poco dopo il 43enne Bingham ha provato un altro tiro e si è sentito un'altra rumorosissima scorreggia si vede allora questo Bingham lo stavano incastorando sì è stato una specie di spy story si è girato e ha appuntato la sua stecca che probabilmente varrà anche diversi soldi contro qualcuno nel pubblico e si è scoperto tra un po' di delusione personalmente che il diciamo il colpevole era un ragazzo che si era messo in prima fila che probabilmente aveva speso anche abbastanza soldi con un cuscino scorreggione e si è divertito ogni volta che questi qua si piegavano sul tavolo a rompere la sacralità di questa finale facendo delle rumorose scorreggie ed è stato allontanato dalla sicurezza proprio si vede lì con gli hooligan hanno tolleranza zero e anche con questo ragazzo che ha un cuscino scorreggione e la cosa mi ha fatto pensare anche perché tu pensi allo stadio ogni tanto come zona franca del calcio in cui riescono le peggiori amenità e non ti viene fatto niente questo ragazzo con il cuscino scorreggione a Londra ha distrutto la sacralità di una partita ed è stato cacciato quindi io gli regalo questa nomination per la Wall of Fame beh io voto per questa il prossimo passo è la finale di Wimbledon secondo me per lui ma io sono anche abbastanza come sapete amante dello snooker questa qua in realtà me l'avevo persa perché non avevo seguito la finale quindi io voto decisamente questa qui tanto tu che segui sia lo snooker sia il tennis era l'anno scorso che c'era stata una partita di tennis in cui si era sentito il rumore molto 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 forte di un film porno in cui credo che fosse fine 2018 ah ok è un tennista che si è messo a urlare non può essere così bravo perché la donna si 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 è vero è vero era di Aliasim se non sbaglio mi ha ricordato questo ma in maniera molto più british perché sarebbe stato fuori luogo sentire dei rumori di un film porno all'interno di una finale di un torneo di snooker invece questa scoreggia ha tolto proprio l'alone di sacralità che c'era attorno a questa partita quindi questa è la mia nomination abbastanza forti tutti e tre devo dire la verità un giocatore del 99 che scompare e riappare in Sudafrica un Raul Bravo che provava a uccidere Kovacevic e la finale del London Master interrotta dalle scoreggie speriamo sia una votazione equilibrata questa settimana speriamo dai noi come sempre metteremo il sondaggio sulla nostra pagina Facebook e vi chiederemo di votare così la settimana prossima sapremo i risultati e direi che per oggi ci possiamo fermare qui come al solito ci trovate su Twitter Facebook Instagram e su unferplay.it a nome unferplay se volete sostenere il podcast e farlo crescere potete farlo diventando Patreon su patreon.com slash unferplay ringrazio come sempre Luca Antonino grazie Luca ciao Dan ciao Antonino e un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie anche ad Antonino ciao Dan ciao Luca e vi saluto da un passo indietro ok io sono Daniele grazie a tutti e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.